Avrebbe respinto le accuse il cinquantenne favarese arrestato pochi giorni addietro dai carabinieri in quanto ritenuto responsabile di avere maltrattato e violentato sessualmente la figlia, anche davanti ai nipoti di lui e figli di lei. Ieri l'interrogatorio di garanzia, l'uomo difeso dall'avvocato Davide Casà, avrebbe risposto alle domande del giudice Alfonso Malato, lo stesso che aveva disposto l'ordinanza cautelare di custodia in carcere su richiesta del sostituto procuratore Alessandra Russo. Il favarese avrebbe negato ogni tipo di accusa mossa gli contro, considerandole nient'altro che menzogne e spiegando che lui è sempre stato un padre amorevole e che non ha mai picchiato né violentato la figlia. A denunciare i presunti atti di violenza e maltrattamenti lo scorso settembre, la stessa figlia del cinquantenne, stanca diceva, dei continui soprusi da parte del padre. I fatti risalirebbero al periodo compreso tra gennaio del 2016 e settembre 2017, quando la vittima era ritornata nella casa paterna a seguito della sua separazione coniugale. La donna, all'indomani della denuncia, era stata trasferita assieme ai figli in una località protetta. Per l'uomo, questa settimana, sono scattate invece le manette e lo stesso è stato condotto presso il carcere Petrusa di Agrigento, provvedimento contro il quale la difesa ha preannunciato che farà ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne l'annullamento.